Il bilancio di previsione 2017-2019 è l'importante strumento finanziario dell'ente comunale che ha il compito di dare autorizzazione all'inizio di ogni anno delle spese che i singoli assessorati potranno sostenere e garantire le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione delle entrate e il punto all'ordine del giorno che il civico consesso è chiamato a discutere e votare questa sera alle 18 a lingua glossa. Nel bilancio la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di potere ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio. Il civico consesso di lingua glossa, convocato dal presidente Aldo Lucio Guzzetta, questa sera dovrà approvare anche il DUP, il documento unico di programmazione che sostituisce la relazione previsionale programmatica e che rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell'ente. Il DUP, che deve essere redatto e approvato prima del bilancio perché ne detta le linee guida, si compone infatti di due sezioni, una operativa e una strategica, che individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione, in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale. In più occasioni il sindaco Salvatore Puglisi non ha nascosto le difficoltà economiche dell'ente comunale, che ormai gestisce dallo scorso mese di giugno. Con le anticipazioni di casse e un piano di riequilibrio finanziario, l'amministrazione puglisi ha cercato di mettere delle pezze alle sofferenti casse comunali. Questa sera un nuovo banco di prova per il primo cittadino, che comunque si è detto fiducioso e certo che tra i consiglieri prevarrà il senso di responsabilità.